Ancora ferma al palo la riforma delle ex province. Dopo la bocciatura del Consiglio dei Ministri, il disegno di legge di ripartizione sui liberi consorzi comunali è tornato in aula a Lars per l'ennesima volta, ma in un'aula semi-deserta. Una situazione di stallo che si protrae ormai da tre anni e rischia di non essere risolta entro il 30 giugno, data in cui scadrà l'ennesima proroga dei commissari straordinari. Una delle questioni più controverse e dibattute riguarda l'elezione del sindaco della città metropolitana, che secondo quanto previsto dalla legge nazionale dovrebbe coincidere con il sindaco del capoluogo. La Commissione Affari Istituzionali, però presieduta da Salvatore Cascio lo scorso dicembre, prese la decisione di non recepire le osservazioni del Governo nazionale. La deputazione regionale sembra non voler rinunciare alla propria autonomia e i tempi non fanno altro che allungarsi. I disagi, come sempre, si riflettono sui cittadini, visto che gli enti non possono ricevere fondi e sono costretti ad amministrare lo stretto ordinario, senza dimenticare il disavanzo stimato tra 150 e 180 milioni di euro, che dovrebbe essere coperto da Roma per far sì che gli enti possano fronteggiare la richiesta dei servizi, come ha rilevato lo stesso assessore all'economia Alessandro Bacei. Resta quindi un pesante e grave immobilismo sulle ex province, che si riflette nelle conseguenze concrete e quotidiane sui cittadini, che sono all'ordine del giorno. Al momento non si intravede una via d'uscita. Grazie a tutti.